Ora in onda, spazio aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Sono circa una quindicina, credo fino a 17, però saluto in modo particolare coloro ci seguono da telepiancavaldo.it, ondaradio.net, radiofavroveneto.it, radiovaldichiana.it, radiorenoweb, naturalmente la radiomadre, radiosaiuz.it, radio e televisione web. In regia centrale abbiamo Rosario Moreno. Prima di partire, che devo presentarvi un ospite d'eccezione questa sera, dunque vi vorrei dare una notizia rapidamente. OMS, in questa fase è necessario non rilassarsi sulle misure di base, come lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale. Come è importante proseguire con il tracciamento dei contatti? E così dice il direttore dell'OMS. Da più di 15.000 sequenze genetiche, viste, ritengo che questo virus sia di origine animale, ha sottolineato la dottoressa Van Kerkhove. Spero si può utilizzare bene così. E a breve sentiremo su questa notizia il parere del nostro ospite, che vi presenterò tra pochissimi secondi. Ecco, qui poi aggiunge, dice c'è un legame con i pivistrelli, dobbiamo capire l'ospite intermedio. E il capo emergenza sanitaria, Ryan, sulle tesi di Pompeo, dice la scienza sia al centro, non la politica. Ecco, su questa notizia poi, che l'ho presa un attimo al volo qui dal televideo, giusto per citare la fonte, vorrei sentire anche l'opinione del nostro ospite, che vi presento subito. Lui è Massimo Mazzucco, regista, amico di Giulietto Chiesa, ha collaborato molto con lui. Tra un po' vorrei anche sapere, così, un ricordo di Giulietto Chiesa, che come sapete anche noi di Pianeta Oggi TV, Radio Servizio TV, eravamo molto legati. Era un amico anche, oltre che la collaborazione in corso con Pandora TV, di cui lui era il presidente. A tale progetto, anzi, vorrei salutare tutta la redazione di Pandora TV, da Margherita Furlan, vice direttore e tutti gli altri. Un caloroso abbraccio, vi siamo vicini nel pensiero, assolutamente. Questo lo dico a nome di tutte le nostre web radio, quindi la nostra regia centrale, Rosario Moreno. Ecco, allora vi dicevo, abbiamo quest'oltre d'eccezione, Massimo Mazzucco, che ringrazio tantissimo di essere qui questa sera a spazio aperto in questa edizione speciale. Ciao Massimo, come stai intanto? Ciao, ciao, bene, bene. Compatibilmente con i tempi che corrono, diciamo bene. Ecco, sì esatto, purtroppo stiamo vivendo che non è una vita questa, parliamoci chiaro. Ce l'hanno combinata veramente grossa. Io vorrei però capire una cosa, abbi pazienza, perché quando vado a vedere su Wikipedia, sei praticamente definito come un complottista, ma che io sappia, non è così. Quindi, come mai? La parola, intanto diciamo una cosa, la mia biografia di Wikipedia io non posso neanche toccarla. Quindi chi è convinto che Wikipedia sia una organizzazione, un'entità indipendente e democratica, è ora che si svegli, perché non è così. Purtroppo Wikipedia, italiana sto parlando, è completamente controllata dal CICAP e dai debunker, cioè dai Piero Angela, dai Paolo Attivissimo, dai Massimo Polidoro e questa gente qui. Non so come abbiano fatto ad avere il controllo, so di fatto che loro possono scrivere sulla mia pagina quello che vogliono e io non posso modificarlo. Se io lo modifico e lo metto a posto, tre minuti dopo ritornano le stesse bugie che c'erano prima. A parte questo, l'uso del termine complottista è un termine molto comodo, è la classica etichetta che viene usata spesso per evitare di discutere degli argomenti importanti, di andare a fondo negli argomenti. Se io dico che le torri gemelle sono state buttate giù con una demolizione controllata, l'altro nel 99% dei casi mi dirà, ah tu sei il solito complottista e grazie a questa scappatoia evita di rispondere e di affrontarmi sull'argomento. E allora in quei casi io dico sempre, sì va bene facciamo così, io accetto l'etichetta di complottista, ma tu accetti di discutere con me sulla velocità e sulle modalità di caduta delle torri gemelle. E a quel punto lì sparisce l'avversario completamente, perché sanno benissimo che almeno su questo argomento abbiamo ragione da vendere. Quindi è un termine di comodo, è un termine che viene usato per ti metterlo in una categoria la quale dovrebbe screditarti già per il semplice fatto di esserlo quello che tu dici, non vuole dire più niente e quindi si evita di entrare nel dettaglio, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Ecco, ma insomma voglio dire, è possibile che accadano di queste cose? Ecco, mi chiedo, perché uno nella rete può scrivere di te tutto quello che gli gira per la testa a lui, cioè è una cosa veramente incredibile, cioè non abbiamo parole su questo. La rete sarebbe ancora ok, ognuno sul suo sito può scrivere quello che vuole, diciamo i debunker, i miei nemici possono scrivere sul loro sito quello che vogliono, la cosa grave è che loro abbiano in mano anche Wikipedia che dovrebbe essere neutrale invece. Capisci, questo è il vero problema, cioè se finché Bufale, come si chiama quello di Butac, quello che c'è al sito di Antibufala, dice che Mazzucco è un complottista, che racconta Bale, eccetera, eccetera, va benissimo, può farlo, siamo in regime di libertà d'opinione, il lettore che vuole farsi un'opinione legge quello che dicono loro, legge quello che dico io, o sente quello che dico io e poi si fa la sua opinione e questo è il bello del confronto. Ma quando tu riesci ad invadere, intaccare un'organizzazione che dovrebbe essere indipendente ed equidistante da tutti, allora lì diventa grave, perché diventa la verità. Ah, ho letto su Wikipedia che lei crede alla terra cava, perché c'è scritto così sulla mia pagina di Wikipedia. Io non ho mai affermato, ovviamente non ho mai fatto un'affermazione di questo tipo nella mia vita, io non ho mai sostenuto che la terra si accava da quando sono nato. Però Attivissimo ha deciso di mettere quella bugia sulla mia biografia per screditarmi, per rendermi poco credibile e io non riesco a toglierla, perché se io vado a toglierla dopo tre minuti loro la rimettono. Ci ho provato per dieci anni, alla fine ho rinunciato. Addirittura per dieci anni e quindi pensa un po' che accadimento c'è su questo, insomma. Sì, adesso non è che tutti i giorni io passo i giorni, è da dieci anni che ho iniziato la lotta, ci ho provato tra quattro volte, nell'arco di dieci anni in periodi diversi, ma poi ci ho rinunciato. Per fortuna ormai la gente mi conosce abbastanza per i miei lavori e quindi non ha più bisogno di andare a vedere chi è Mazzucco su Wikipedia, però purtroppo quando qualcuno sente il mio nome la prima volta è chiaro che vanno lì a vedere, perché dove vai? Per sapere chi è una persona vai su Wikipedia. Non sanno purtroppo che è tutt'altro che un'organizzazione libera e indipendente. Sì, questo infatti, cioè, francamente mi colpisce, insomma, questa cosa. Mi fa piacere comunque che noi ti abbiamo dato la possibilità di chiarire questo punto, insomma. Sono alto per dovere di informazione, te l'abbiamo chiesto direttamente a te. Tra l'altro io non sono uno abituato a fare accuse senza dimostrarle, quindi sto preparando adesso un video che si intitolerà appunto Chi controlla Wikipedia, nel quale faccio vedere, cioè do la dimostrazione proprio fisica, plastica, scritta, del fatto che sono loro a controllarla. Quindi se lo dico è perché posso dimostrarlo. Certo. Ecco, come hai dimostrato tantissime cose, debbo dire, ultimamente, anche sulla questione del Covid-19, insomma, ecco, qui, come leggevo anche prima la notizia, si dà colpa a questo pipistrello, ma in effetti tu hai invece tirato fuori dei documenti molto importanti che poi, la prova, tra le altre cose che sono veri, il fatto che ti hanno spesso tagliato in altre trasmissioni, perché sentivo in uno dei tuoi reportage che effettivamente spiegavi questo, dei tagli in regia fatti apposta per poi, ecco. Allora, perché c'è l'intenzione, voglio dire, di coprire quello che tu dici? Cioè, di cosa si ha paura? Perché coprire delle informazioni di questo tipo che riguardano un problema che ci tocca a tutti noi da vicino? Ecco, cosa è successo in quei laboratori, effettivamente? Sono due domande diverse. Perché coprirlo e cosa è successo? Allora, perché coprirlo nell'ipotesi? Perché io lì non è che purtroppo tu ti ringrazio e hai detto che ho dimostrato tante cose. In questo caso, ovviamente, nessuno può dimostrare che il virus che ci sta tormentando tutti sia di origine di laboratorio, sia di origine artificiale, frutto di una manipolazione. Montagné lo ha sostenuto. Montagné è un virologo che dà un premio Nobel, quindi sarebbe da ascoltare sicuramente. Io personalmente non posso fare altro che citare Montagné, ma non posso dimostrarlo io con i miei strumenti. Però, ecco, tu mi dici perché coprire una cosa del genere? Guarda, io non dimenticherò mai. La faccia della Palombelli su Rete4, quando nel pomeriggio di un certo giorno si diffuse la notizia in Rete, andò in giro di colpo questo video della trasmissione di Leonardo della Rai di qualche anno fa, nel quale si parlava di un virus derivato dal pipistrello e modificato in laboratorio che portava a un Covid artificiale. Ecco, esplose la bomba di questo video di Leonardo, siccome Leonardo è della Rai, quindi non è un sito complottista, aveva una certa credibilità, io mi ricordo proprio la faccia della Palombelli che disse, ma qui questa cosa dobbiamo smentirla, perché bisogna subito smentirla e si guardava in giro tra i suoi ospiti nel cercare qualcuno che potesse smentirla. Perché? Perché abbiamo un intero occidente che è messo in ginocchio da quello che ci raccontano essere una disgrazia naturale. Figuratevi se la gente sapesse veramente che siamo tutti in ginocchio per colpa di una disgrazia artificiale, cioè perché qualcuno l'ha fatto succedere. Varebbe giù il finimondo. Ecco perché i media cercano di controllare la notizia dell'origine artificiale del virus, perché se no ci sarebbe una rivoluzione domani. Se a un certo punto venisse fuori veramente, in modo dimostrato che questo virus è stato creato in laboratorio, e poi andiamo sulla seconda parte della domanda, cioè su chi è stato e chi ci guadagna e perché. Se venisse fuori questo, viene fuori una rivoluzione. Vanno domani, buttano giù l'ambasciata cinese, l'ambasciata americana, l'ambasciata di tutti quelli che pensano di essere stati coinvolti. Questo è il motivo, rispondo alla prima domanda, perché si cerca di tenere sotto silenzio. La seconda domanda, la parte della domanda, che è invece chi e perché, lì è veramente molto complicato, perché per esempio in questi giorni Mike Pompeo, l'ex capo della CIA, adesso il ministro degli esteri, sta strombettando da due giorni in televisione che loro hanno le prove che il virus è uscito dal laboratorio cinese di Wuhan. Ora, se il ministro degli esteri di Trump dice una cosa del genere, non è un complottista qualunque, è il ministro degli esteri americano che lo dice. Però si dimentica una cosa, che il laboratorio tra virgolette cinese di Wuhan non è un laboratorio dei cinesi e questa è la grande cosa che nessuno sa. Il laboratorio di Wuhan era un laboratorio, è un laboratorio internazionale, messo su con i fondi dell'OMS e messo su con i fondi anche dell'Occidente. Addirittura è una specie di copia, cioè hanno fatto una specie di duplicato di un laboratorio che esiste di massima sicurezza di biotecnologie, che esiste già credo in Francia o in Inghilterra, non mi ricordo più in quale dei due posti. Quindi il fatto che la località fosse la Cina non ha niente a che vedere con il fatto che il virus per forza debba essere il prodotto cinese. Lì potrebbe essere un qualunque agente o personaggio o scienziato o pseudo scienziato o agente travestito da scienziato occidentale che andava e veniva e che è andato lì e che a un certo punto si è lasciato scappare la fialetta per terra e si è rotta, magari nelle vicinanze del mercatino, per fare un pochino di fumetti. Per cui l'idea che essendo in Wuhan debba essere un virus cinese, quindi colpa loro, è assolutamente fasulla proprio alla base. Poi c'è un motivo ovviamente politico del perché in questo momento Trump vuole buttare la colpa sulla Cina, ma questo poi dimolo tu se vuoi che ne parliamo. Io alle tue domande iniziali ho risposto. Sì certo, ti lascio andare avanti perché tutto quello che dici è molto interessante. Volevo solamente prendere spunto da un tuo reportage, veniva detto il 13 di marzo la Cina accusa ufficialmente di USA di averli portato in casa il virus durante le esercitazioni militari di Wuhan. L'accusa è partita da un video dove si vede il direttore del CDS americano Robert Redfield che risponde ad un'interrogazione parlamentare e ammette che nei mesi scorsi ci sono stati dei casi di coronavirus in America che sono stati fatti passare per normale influenza. Giustamente i cinesi chiedono chiarimenti agli americani per sapere da quando il Covid-19 sia effettivamente in circolazione negli Stati Uniti. Sì, infatti i cinesi hanno avanzato questo sospetto già appunto il 13 di marzo come dici tu e lo hanno fatto anche lì, non tramite un blogger qualunque, ma tramite il portavoce del Ministero degli Esteri, cioè l'equivalente di Pompeo, come se oggi Pompeo stesse rispondendo all'accusa del Ministero degli Esteri cinese di oltre un mese fa, quasi un mese e mezzo adesso, nel quale appunto loro dicevano scusate ma se questo signor Redfield si chiama, com'è che si chiamava? Sì, Robert Redfield. Redfield, il capo del CDC, cioè il capo del centro, diciamo l'Istituto Superiore di Sanità americano tanto per capirci, ecco se questo Redfield ammette che già a novembre avete avuto dei casi di coronavirus che li avete scambiati per l'influenza normale, da dove è uscito questo virus? Non è che per caso allora, è lì che nasce il ragionamento, quando siete venuti voi in ottobre a fare i giochi militari a Wuhan, magari tra i vostri 300 militari c'era uno che aveva qualcosa in più oltre al dentifricio nella sua borsetta, nel suo beauty case, e questa domanda, questa accusa non ha mai avuto una smentita da parte americana. E questo è un dato di fatto. Quindi, quella di oggi, il tentativo di oggi di Pompeo di rovesciare sui cinesi la colpa non è altro che la ritorsione di quello che i cinesi in realtà hanno messo in piazza un mese e mezzo fa. Tra l'altro i cinesi in quell'articolo molto interessante dicevano anche un'altra cosa, non solo gli americani ci dovrebbero spiegare quando è che hanno avuto il loro primo paziente zero in America, perché evidentemente non è adesso di febbraio, ma parliamo del novembre scorso, ma dovrebbero anche spiegarci perché di colpo nel luglio scorso, cioè nel luglio del 2019, è stato improvvisamente chiuso in fretta e furia il laboratorio di biotecnologia di Fort Detrick, nel Maryland, che era un laboratorio di biotecnologia di livello 4 esattamente, cioè il più alto che c'è di sicurezza e di rischio, lo stesso livello di Wuhan, che stava nel Maryland, controllato ovviamente dai militari americani. Dice perché di colpo lo avete chiuso con la scusa che non c'erano più le misure di sicurezza che permettevano di controllare la fuoriuscita eventuale di un virus? Forse è scappato a voi, dicevano i cinesi, capisci? Sì, ho fatto scappare, mi viene da pensare, ho fatto scappare appositamente? Sai, tra apposta e non apposta la differenza è minima, si chiama ups, cioè quando fai ups che ti è scappato qualcosa, ma ti è scappato davvero, non lo sapremo mai questo. Ovviamente lì c'è un'ipotesi, e lì siamo veramente nel mondo delle ipotesi, però si può fare tranquillamente, l'ipotesi che inizialmente gli americani, siccome erano da due anni che non riuscivano in nessun modo a fermare l'avanzata galoppante dell'economia cinese, abbiano pensato magari di dargli una bottarella, tirandogli un virus fra le caviglie, pensando, siccome in tutti i casi passati, nel caso della SARS, in caso della Viaria, nel caso dell'epidemia del 2002, siccome fino ad oggi sono sempre riusciti bene o male a contenerli in Asia, magari questa volta buttiamogli la bomboletta puzzolenta, questa volta gli diamo un attimino una rallentata alla loro crescita economica, invece in questo caso purtroppo, siccome oggi rispetto a vent'anni fa c'è un cambiamento enorme con la velocità con cui la gente viaggia, vent'anni fa c'erano magari due aeree alla settimana che andavano in Cina, oggi ce ne sono dieci al giorno in ogni nazione europea che arrivano dalla Cina, e quindi evidentemente hanno fatto male i conti e oggi ci troviamo tutti con un problema che magari inizialmente era destinato ad essere soltanto cinese, però ripeto qui siamo nel capo delle ipotesi pure, quindi bisogna prendere per quello che sono, il fatto che a Wuhan ci sia un laboratorio di quarto livello internazionale di biotecnologia è un fatto accertato. Allora, alla fine poi anche questo caso, la notizia è caduta nel nulla e l'argomento non è mai stato ripreso dai network intercontinentali, ad esempio una CNN oppure un CBS o che ne so io, altre, ecco, voglio dire, queste cose qui i giornalisti dovrebbero… Aspetta, di quale notizia ti riferisci esattamente? No, no, di tutta questa storia, no? Nessun network ne ha parlato. Beh no, in America oggi, io guardavo la CNN prima, stanno discutendo fortemente delle accuse di Pompeo e la Cina, ovviamente è una discussione nel senso unico, cioè si discute solo del fatto che Pompeo accusa la Cina, non del fatto che la Cina abbia accusato l'America un mese e mezzo fa, né del fatto che sia assolutamente ridicolo accusare la Cina perché si tratta di un laboratorio internazionale, quello no. Però la notizia, diciamo, delle accuse di Pompeo, ma sai in America fanno anche in fretta a dargli lo spin, cioè a girarle in senso giusto perché loro dicono, scusate, Trump deve rivincere le elezioni a novembre, stava andando da Dio perché Trump fino a gennaio andava veramente a gonfie vele, aveva una crescita del PIL del 4% annuo, stava benissimo e siccome in America l'unica cosa che ti fa vincere o perdere le elezioni è lo stato dell'economia, lui andava tranquillamente, veleggiava verso una seconda rielezione. Adesso che gli è arrivato fra le caviglie questo virus e che ovviamente l'economia si è fermata e diventerà più facile per i democratici dare la colpa a lui per una cattiva gestione. E allora ecco, dicono i media schierati con i democratici, che sono tutti praticamente, eccetto la Fox, dicono ecco Trump usa questa accusa contro i cinesi per spostare l'attenzione dal fatto che non è stato capace di gestire il virus. Questo è lo spin che gli danno in casa. Quindi non è vero che non ne parlano, cioè ne parlano, però gli danno anche questa connotazione tutta politica che evita il problema alla radice. Ecco, ho capito, sì. Ecco, ma secondo te Massimo c'è un legame tra il virus Covid-19 e quello famoso della SARS nel 2002? Non lo so. Io di virologia non ci ho mai capito niente. Quando si comincia a parlare di geni e di antigeni e di anticorpi, di quelle cose lì, preferisco tacere per non dire stupidaggini, non lo so. Certo, quello che si nota è che quella volta non è successa tutta questa pandemia, invece oggi sì. Quindi mi fa pensare un po' questa... ma entriamo nel mondo della comunicazione. Da quando c'è in giro questo Covid vedo che spesso i social network, cioè all'interno di social network molte persone vengono censurate, bloccano la diretta, addirittura noi ci hanno bloccato delle edizioni speciali, addirittura edizioni straordinarie durante l'inizio dell'emergenza che mandavamo anche su Facebook, addirittura un tratto le bloccavano con delle motivazioni tra le più assurde. Cosa sta succedendo secondo te nel mondo dell'informazione indipendente? Cosa sta succedendo al mondo dell'informazione indipendente? Cioè che cosa sta succedendo a noi praticamente? Sta succedendo che hanno capito che cominciamo ad avere dei numeri che contano, ecco il mio famoso video del pipistrello è un esempio classico, il video intitolato è stato il pipistrello con le virgolette ovviamente, ha fatto 4 milioni di visualizzazioni. Quando tu fai 4 milioni di visualizzazioni diventi una voce pesante e quindi entri nel mirino, infatti io sono subito dopo, sono entrato nel mirino, articoli contro di me, calunnie di tutto e di più, complottiste, sono andati a tirare fuori cose che non esistono pur di attaccarmi, quello mi ha fatto capire che avevo colpito nel segno. Più in generale sta succedendo anche a Claudio Messora con Bio Blu, che tra l'altro Bio Blu è un canale che ha 10 volte le visualizzazioni che faccio io mediamente, sta succedendo anche a lui perché hanno capito che noi tutti insieme della libera informazione stiamo diventando non solo una forza grossa dal punto di vista dei numeri, ma stiamo anche compatti. Cioè quelli che speravano di vederci litigare, di vederci fare le prime donne, di vederci litigare e metterci uno contro l'altro per essere i più fighi che fanno, non è successo. Noi abbiamo fatto un discorso fin dall'inizio, io, c'era anche Giulietto allora, Chiesa Messora, Frabetti e molti altri, ci siamo chiariti bene che la cosa più importante è non cadere proprio in questo tranello e non ci siamo mai caduti, non ci stiamo cadendo. Ci aiutiamo a vicenda, ci supportiamo a vicenda, ci scambiamo le informazioni la mia vicenda e questo si vede nei risultati, perché non troverai mai un conflitto fra me Messora, fra me Pandora TV, fra Pandora TV e Bio Blu eccetera eccetera, non c'è, non c'è perché abbiamo deciso dall'inizio di evitare quella strada e di andare sulla strada opposta e questo fa molto 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 paura. Quando io ho fatto il video intitolato, scusami adesso, il Ministero della Verità, dove accusavo, capovolgevo la storia per cui saremmo noi quelli delle fake news, invece sono loro, alla fine del video ci sono 40, mi sembra, firme in video mandate da persone che dicono mi chiamo Giulietto Chiesa, faccio giornalista e approvo questo messaggio, mi chiamo Fulbo Grimaldi, sono reporter di guerra e approvo questo messaggio, mi chiamo qui, mi chiamo là, avvocati, pensatori, scrittori, formatori, diciamo psicologi, fa paura, fa paura vedere questa compattezza, quindi ecco cosa sta succedendo e quindi ne paghiamo tutte le conseguenze, anche voi che magari siete ancora un po' più piccoli, state ancora crescendo, ma comunque sia tutti indipendentemente, nel momento in cui andiamo a toccare gli argomenti delicati veniamo tutti soffocati da questa forma di censura. Io poi mi domando una cosa, voglio dire, stiamo vivendo in condizioni proprio assurde, disperate, non se ne può più, no? Cioè cos'è che abbiamo da perdere ancora se non quello… di cercare, capito, quindi tutto è guadagnato, che mi fanno? Sparire a me, dico va bene, finisce sta musica una volta per tutte, posso buttarla anche così, perché tanto vivere così non ha senso, cerchiamo quindi, quindi noi, questo è il messaggio che vorrei dare ai nostri ascoltatori, abbiamo noi testati indipendenti, siamo alla pari vostra amici ascoltatori, abbiamo tutto l'interesse per fare emergere la verità e quindi ecco, questa è la garanzia che vi vediamo, che diciamo le cose come stanno, perché abbiamo tutto l'interesse e quindi questo vale anche per l'emittente di media di Massimo Mazzucco e Pandora TV e tutti gli altri. Ecco, quindi voglio dire anche… Scusa se ti interroppo, sai qual è la migliore forma di garanzia che noi possiamo dare quando facciamo il nostro lavoro? È il fatto che noi non siamo pagati da nessuno, cioè mentre la TV è comprata e controllata dalle introiti pubblicitari e quindi devono fare quello che vogliono i grandi inserzionisti pubblicitari, che sono soprattutto case farmaceutiche, telefonia e automobili, sono le tre grosse entrate, più gli alimentari, diciamo quattro, delle televisioni, noi non abbiamo padrone, noi almeno io non so come funzionate voi, ma io vivo con… qualcuno viene sul luogo comune, il mio sito, decide che vuole darmi una mano, fa una donazione se la vuole fare, se non la vuole fare non importa e va benissimo così e io devo rispondere solo le persone che mi fanno le donazioni, quindi siccome me le fanno per come sono io, non ho nessun interesse a cambiare e a vendermi a qualcos'altro, perché a me piace personalmente ricevere quel poco, ma sapere che quel poco è proprio come un premio che io riesco a ottenere da persone che me lo danno come segno della fiducia verso quello che faccio, quindi non ho interesse a tradirli, anzi ho tutto l'interesse a continuare a difenderli. La televisione, tu in televisione non potrai mai, per definizione, non potrai mai vedere una seria discussione sulla sicurezza dei vaccini, oppure una seria discussione sulla sicurezza del 5G, non la vedrai mai, per il semplice motivo che le case farmaceutiche che pagano il 30% della pubblicità che entra nelle stazioni televisive o le compagnie telefoniche che portano almeno un altro 20%, non avranno mai piacere di vedere una vera discussione che mette veramente in discussione la sicurezza del 5G, quindi non la faranno mai, perché sennò perdono gli sponsor, quindi alla peggio tu vedrai delle finte discussioni, dove si invitano solo fra di loro gli esperti che la pensano tutti in un certo modo, invitano magari un povero cretino che ci casca a fare la voce opposta, gli danno addosso in 4-5, perché si mettono in 4-5 contro 1, gli tolgono la parola come fa spesso la Gruber quando vuole avere ragione per forza, lo mettono a tacere, magari tagliano la trasmissione, si danno ragione da soli e così possono anche dire, visto che noi l'abbiamo fatta la trasmissione democratica, noi gli argomenti li affrontiamo, non siamo da una parte sola, invece è tutta ipocrisia perché in realtà si danno ragione da soli. Quindi il motivo per cui noi siamo credibili è il semplice fatto che non dobbiamo niente a nessuno, che l'unico grande vantaggio che abbiamo è proprio di essere liberi in questo, perché non avendo padroni non abbiamo tanti soldi, non abbiamo le Ferrari, non abbiamo l'autista che ci viene a prendere al mattino, ma siamo tutti belli tranquilli di poterci guardare allo specchio ogni giorno e quindi sappiamo di poter fare il nostro lavoro con sincerità, al meglio, perché poi non è che siamo degli dei, sbagliamo anche noi mille volte, ma se sbagliamo, sbagliamo in buona fede. Ah, certo, certamente. Ricordiamo poi che queste, ve lo dico due cose, la prima è questa, queste emittenti poi sono nate sulle frequenze che erano delle tv locali e qui mi ricordo anche Giulietto Chiesa spesso appunto entrava sul tema delle radiofrequenze, della radio telediffusione in Italia insomma. Ecco, io ricordo negli anni, primi anni Ottanta, quando nascevano i network, sparivano le televisioni locali, all'epoca c'era il vero pluralismo, addirittura alcune televisioni non facevano nemmeno il telegiornale, altre sì, ma erano notiziari veri e propri, non era, non è come adesso che spingono per un partito o per quell'altro partito, quindi c'era una, come dire, una informazione più libera, più pura. Ora di quelle emittenti sono rimaste pochissime, le conti sulle dita penso di una mano insomma, ecco, addirittura in certe regioni credo che non esistano più le vere emittenti locali rimaste libere. Poi l'altra cosa, poi ti lascio subito la parola, l'altra cosa io dico sempre agli ascoltatori, ma perché appunto, tu dicevi anche prima, ci sono queste trasmissioni finte, questi dibattiti finti che hanno stancato, inconcludenti, ne vediamo come non so tantissimi, ecco, allora dico, cercate di rinnovare i tasti del telecomando e portate magari qualche televisione che è ancora rimasta anche locale, nei primi tasti del telecomando, cioè rinnoviamo un po' questa cosa qua, visto che abbiamo noi la possibilità di tecnicamente rinnovare il telecomando, cambiare gli emittenti sui tasti del telecomando, o sbaglio? Beh, il problema è che per dare dei contenuti interessanti ci vogliono anche i mezzi, cioè la televisione è un argomento che noi affrontiamo spesso fra di noi, quando parlavamo prima, quando c'era con Giulietto, parliamo sempre con Messora, eccetera, cioè anche un canale digitale locale, ha comunque dei costi di gestione che sono completamente diversi da quelli che abbiamo noi, io qui trasmetto con una webcam di buona qualità finché vuoi, tre luci messe bene e un microfono da 150 dollari, quindi non è che ci vuole più di tanto, se cominci a entrare in una dimensione televisiva produttiva i costi sono completati, anche se sei a livello regionale, quindi diventa molto difficile dare un prodotto di qualità quando hai una televisione di quel tipo e quindi tendi a scendere con il livello, fai le televendite, prendi i vecchi film degli anni 60 che porti via a 50 lire al chilo, te ne danno 40, eccetera, eccetera, è chiaro che il livello del prodotto scende, cioè in realtà mancano i giornalisti validi che siano in grado di dare anche a livello regionale un'informazione ben fatta, mancano perché tutti quelli decenti bene o male sono stati cooptati, sono stati comperati dalle grandi reti, dove guadagnano sicuramente meglio e lì ognuno deve fare i conti con la sua coscienza, è chiaro che hanno minore libertà di espressione, però sicuramente lo stipendio è garantito. Certo, questo è anche vero, altresì vero, ci sono delle emittenti locali dove va anche ad esempio il nostro settimanale, perché io oltre alla mia testata mando un settimanale che va su un circuito di televisioni proprio terrestri, anche radio, da Trieste a Radio Difusione Europea fino a Palermo, che praticamente viene apprezzato, viene messo in onda, su alcune regioni non entriamo proprio perché non ne vogliono sapere oppure ti chiedono anche soldi, però ci sono questi emittenti che ancora danno un po' di prodotto perché i gestori ci credono al proprio progetto e hanno sempre, non so quante difficoltà, le frequenze peggiori, specialmente se è vicino ai confini qui con l'ex Yugoslavia, non so quante interferenze, quindi praticamente poi c'erano le proteste da di là del confine e insomma si diventa amati a condurre la televisione. Queste sette televisioni nazionali hanno avuto le frequenze migliori in assoluto, quindi questo è un dato di fatto purtroppo. Bisognava essere amici di Craxi in quel periodo, se eri amico di Craxi avevi le frequenze migliori, non ricordiamo che Berlusconi è nato grazie a Craxi, non sarebbe mai esistito a livello di mogul televisivo se non fosse stato per Craxi, Berlusconi quando ha iniziato, io fra l'altro penso che a ridere, ho lavorato per lui, ho lavorato tre giorni praticamente, tempo di entrare e di litigare, ma per tre giorni ho lavorato quando lui aveva una piccola televisione locale a Milano 2, che si chiamava Tele Milano, e faceva prima ancora, lui proprio in Milano 2 aveva collegato via cavo gli appartamenti e aveva cominciato a fare la tv per le case di Milano 2, e io in quel periodo ero tornato dagli Stati Uniti e avevo fatto una scuola di regia televisiva, quindi mi sentivo tutto bello pronto e preparato e mi hanno assunto lì a lavorare, e mi ricordo un episodio che è veramente divertente perché non dimenticherò mai, io non sapevo chi fosse Berlusconi, nessuno lo sapeva allora bene o male, però mi hanno detto guarda oggi viene il capo, oggi viene il capo, viene a vedere il nuovo trasmettitore, lui aveva appena ordinato il primo trasmettitore via banda aerea, non via cavo, un trasmettitore che era una scatola così, diciamo un metro per mezzo metro, lineare di potenza, mi ricordo questo qui che arriva, allora, ma che schifo è, io ho pagato un miliardo per questa roba qua, perché un miliardo di allora era un milione di dollari da adesso, un miliardo di lire, ho pagato un miliardo per questa roba qui, ma vi siete sicuri, non è che vi hanno fregato ragazzi, ma questo era come è nato Berlusconi all'inizio, ovviamente la sua parte dell'aneddoto, ovviamente senza il trucco, senza la concessione delle frequenze a livello nazionale da parte di Craxi, Berlusconi sarebbe ancora oggi uno che manda in giro i furgoni con le videocassette, perché registrava il telegiornale a Segrate alle tre del pomeriggio, partivano i, come si chiamano, i corrieri col camioncino, i furgoncini per tutta Italia per consegnare la cassetta per andare in onda praticamente alla stessa ora, in simultanea, ma non in diretta, per cui chiaramente se tu eri a Roma o a Perugia vedevi lo stesso TG che vedevi a Milano, perché era quello, ma non è che andassi in onda dalla stessa emittente, ognuno aveva la sua cassetta, la copia, la faceva partire alle nove in punto, ecco questo era Berlusconi, prima che arrivasse Craxi che gli ha fatto le leggi a suo favore, gli ha dato tutte le frequenze. Ecco, un po' come noi adesso quando mandiamo questi programmi così un po' alternativi, che gli diamo, mandiamo il file, però adesso si fa prima, lo si manda via. Ecco, almeno non c'è da mandare in giro il furgoncino fisico, basta caricarlo sul server. Esatto, esatto, e mandiamo un programma dove passa un messaggio importante, insomma, almeno per noi, che ci preme la vita, ci preme la vita di questo pianeta. Senti, siamo verso il finale, ve l'ho fatta ancora una domanda, naturalmente se c'è qualche domanda sulla chat, ecco prego la regia centrale Rosario Moreno di intervenire e di porre la domanda. Intanto ti faccio questa, scusate, guardare una cosa qui. Ecco, sì, si parlava dell'informazione, le app, questi tracciamenti, capire un po' la gente dove va, eccetera, cosa ne pensi? Le app sono il sogno proibito di chi vuole controllare l'umanità. Bene. Perché grazie a quello, pensa che se tu sei una di quelle persone, l'idea di poter sapere dove vanno tutti in qualunque momento, di controllarli e quindi di poter ricattare in qualunque momento, per dove sono andati, con chi eri quel giorno, perché eri lì. Pensa quando ti fanno nei film polizieschi degli anni 50, no? Signor Smith, dove si trovava lei alle 7 di sera del 24 di febbraio? E tu vi raccontavi quello che volevi, a meno di non trovare un testimone che ti smentiva. Adesso invece no, dice, signor Smith, la sua app dice che lei il 24 di febbraio alle 9 era proprio vicino alla casa dell'omicida, della vittima. Adesso come facciamo? E te magari che passavi di lì per caso perché portavi il cane a pisciare, ti tocca doverti difendere perché c'è l'app che ti ha tracciato. Ho fatto un caso estremo, ma voglio dire, il problema di essere seguiti dappertutto è veramente fondamentale. Quindi dobbiamo ribellarci in tutti i modi possibili, evitare assolutamente di farci... Già così possono seguire comunque i nostri spostamenti, geolocalizzarti se vogliono, a livello di triangolazione, nel senso che fanno le triangolazioni con le famose antenne riceventi e bene o male possono stabilire che un certo telefonino si trova fra un numero di tre antenne, fanno le triangolazioni, tra questa, questa e questa c'è lui, è collegato a questa, adesso si è collegato a quell'altra, quindi si è spostato da questa zona a quella zona, ma è sempre un tracciamento vago, generico, non è preciso, non ti possono venire a prendere con l'elicottero dei film polizieschi se ti vogliono trovare solamente con il tracciamento della telefonia. Con l'app invece sì, perché lì la triangolazione la fai col bar vicino, con la fontana e con l'ufficio del sindaco e quindi se tu sei in quella piazza, lì ti trovano assolutamente, quindi è molto più precisa rispetto alla geolocalizzazione che usano adesso. E allora, tirando le somme, tra il Google Map, che senza che dici nulla ci è venuto a fotografare la nostra casa, i nostri infissi, qualsiasi angolo della casa, fino al tetto e anche le antenne per vedere cosa riceviamo. Ecco, tra questa cosa qui alla fin fine fanno una bella banca, un database dove digitano il nome e il cognome, non so, Mario Rossi e vedono tutto e di più praticamente. E pensa al sogno segreto di Bill Gates, che è di mettere tutto questo in un piccolo microchip che ti impiantano sotto la pelle. Cercate su internet progetto ID2020, ID come identità, sta per Identity2020, quindi Identità2020, Bill Gates, non vi dico altro, cercate che cos'è quel progetto ed è un tentativo di coniugare la potenza della raccolta dati mondiale con la vaccinazione obbligatoria, cioè il suo sogno assoluto è di arrivare a avere tutta la popolazione vaccinata e tracciata, grazie a questo sistema di ID2020, cioè di tracciamento personale, che non solo gli dice dove sei in qualunque momento, ma nel quale ti porti anche dietro tutte le tue informazioni personali, compresa il famoso libretto vaccinale che diventerà a un certo punto obbligatorio, che cercheranno di diventare obbligatorio. Quindi la tua domanda di prima è cosa fare? Ribellarsi a tutto, non cascare mai nelle lusinghe. Quando ti dicono che il 5G sarà meraviglioso perché potremo collegare lo spazzolino da denti con il pannolino di mio figlio, voi rispondeteli ma chi se ne frega, a me va benissimo che lo spazzolino da denti non sia collegato a niente, il mio forno a microonde non ha nessun bisogno di parlare con la ruota di scorta della mia macchina, perché abbiamo vissuto benissimo fino ad oggi senza che questo accadesse, è andata a quel paese. L'unica cosa è rifiutare tutte queste cose, rifiutare le app, rifiutare qualunque cosa che ti viene venduta in modo melliflo come una meraviglia del futuro e che nasconde invece la fregatura. Ultimissima o quasi ultimissima, perché io con te parlerò fino a mezzanotte perché abbiamo questa, non è possibile fino a mezzanotte, comunque abbiamo questa grandissima possibilità questa fortuna di averti qui con noi, ecco dunque noi sai siamo indipendenti per condurre queste televisioni, questo lavoro giornalistico abbiamo certo delle spese e se non abbiamo un altro lavoro per mantenere poi questa attività è un problema, quindi abbiamo difficoltà, non lo nascondo di andare avanti, se poi vai a pestare qualcuno che ti querela, hai finito, ti trovi in mezzo alla strada. Ecco, io voglio capire un attimo cosa ne pensi di questa cosa che ti ho messo lì sul tavolo e se poi dici qualcosa anche della tua emittente contro TV, giusto per dare un attimo notizia, far capire ai nostri ascoltatori che esiste anche contro TV e alla fine un pensiero per Giulietto Chiesa, che siamo rimasti tutti colpiti. Cominciamo dalla fine anche perché di Giulietto ho fatto tante commemorazioni e quasi non riesco più a farle, nel senso che le prime ti vengono spontanee e dopo diventi meccanico e non voglio essere meccanico in queste cose. Dico solo una cosa, Giulietto era un grande uomo con la U maiuscola, nel senso che era una persona che ha sempre fatto quello in cui ha creduto e ha sempre creduto in quello che faceva e quando tu metti queste due cose insieme hai un tipo di persona che è rarissimo al mondo, ha avuto la possibilità da una parte di fare quello che voleva e la forza dall'altra di fare soltanto quello che voleva, di non piegarsi mai ai compromessi, il che non vuol dire non sbagliare mai, sia chiaro, tutte le persone nella sua situazione, nella mia, fanno degli errori continuamente, ma li fai in buona fede e li fai comunque convinto di perseguire la coerenza di quello in cui credi, eluire la persona del genere. Rispetto al fatto di supportarsi e di far fatica, è il prezzo della tua libertà, tu sei libero di parlare con me di quello che vuoi, pensa, tu in questo momento mi fai le domande che ti vengono in mente, spontanee, non devi pensare, oddio cosa mi dirà l'editore domani mattina se magari faccio a Don Mazzucco la domanda sbagliata, dopo mi fa il mazzo, no non devi farlo, non hai nessuno che controlla ciò che stai facendo, quindi sei in uno stato quasi ideale, anche se ovviamente ti costa dal punto di vista, diciamo, pratico, perché chiaramente nessuno di noi è ricco e nessuno di noi mai diventerà ricco facendo quello che facciamo, magari qualcuno ha un altro mestiere, nelle ore in cui non si occupa di informazione, fa il falegname, fa dei tavolini bellissimi e li vende un sacco di soldi, quelli sono a fare i suoi, ma da questo fronte, da questo fronte del mestiere che fai tu e che faccio io e che è quello di dedicarsi all'informazione, non verrà mai la ricchezza, ma il prezzo che paghi è assolutamente giustificato perché tu hai una cosa che nessun altro ha, che è la grande libertà e ti consiglio se puoi di non rinunciarci mai, perché è la cosa più bella che si possa avere. Più volte ci siamo consultati anche con il collega Amico Rosario, andiamo avanti, tiriamo e il re mi imbarca, cosa facciamo? Lui mi ha sempre detto Massimo andiamo avanti, a prescindere da tutto, andiamo avanti. E allora ho detto andiamo avanti. Confesso che anche io diverse volte nei 15 anni in cui mi sono dedicato a questo, sono arrivato anche io tra o quattro volte a un punto di dire basta, chi me lo fa fare? però poi mi svegliavo il mattino e sapevo chi me lo faceva fare, ero io, cioè è la nostra natura che ce lo fa fare, quindi non c'è niente da fare, puoi anche essere stanco, a un certo punto può venirti voglia di tirare il re mi imbarca perché è comprensibile, ma poi sei tu stesso che non lo accetti perché dopo non sei più tu, capisci? Questo è un fatto di identità, di realizzare quello che siamo, nel bene e nel male, quindi va bene così. Lo hai nel DNA praticamente, lo abbiamo nel DNA questa cosa? Sì, dovrebbero averlo più persone, ecco io mi stupisco che siano così poche le persone che amano la verità, che vogliono cercare la verità, purtroppo la maggior parte della gente, come dice il famoso proerbio americano, preferisce una comoda bugia a una scomoda verità, cioè è molto più comodo sentirci raccontare che sono stati cattivi islamici a buttare giù le torri gemelle, perché il cattivo è là fuori, sappiamo come sono, hanno il turbante, li andiamo a combattere, bene o male siamo più forti di loro, quindi è comoda quella bugia, la scomoda verità è invece ammettere che c'è gente dentro di noi, nel nostro sistema che ci ammazza e butta giù le torri gemelle perché ha dei suoi porci comodi interessi da fare e non gliene frega niente della vita dei suoi concittadini, questa è la scomoda verità, è chiaro che fra le due c'è molta gente che preferisce la comoda bugia. Ecco, tra l'altro l'inchiesta sull'11 settembre l'abbiamo qui, proprio a taglio primo nella nostra testata, proprio per ricordare Giulietto Chiesa e praticamente è tutta la prima pagina piena di ricordi a Giulietto Chiesa, ecco stiamo dedicando l'intera testata, per noi è stato veramente un colpo duro, io lo conoscevo personalmente, è stato anche qui a Pianeta Oggi, qui proprio dove sono ora che parlo, insomma abbiamo preso il caffè assieme, insomma lo sentivo spesso al cellulare e la voce, sento ancora la voce nell'orecchio, non riesco a mandarmi giù questa cosa qui, più volte mi blocco perché questa cosa qua mi rattrista tantissimo, io sento in continuazione la sua voce nell'orecchio, le vibra che mi faceva quando lo chiamavo. Vuol dire che ti sta parlando, se la senti perché sta parlando. Benissimo, allora prendiamola come una nota così positiva, ti volevo anche sentire parlare un attimo della tua televisione. No, il mio canale per adesso è molto semplice, il mio canale facciamo tre sere alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì alle 9, siamo in diretta e siamo sulla piattaforma indipendente, cioè la vera novità del mio canale è che non dipende per fare le dirette né da YouTube né da Facebook, abbiamo i nostri server, abbiamo messo su una tecnologia nostra che ci permette di andare in diretta, diciamo dal nostro studio, da qui da dove sono io adesso, direttamente al vostro computer tramite una tecnologia mista, in parte peer to peer, in parte gestita da server, che ci permette di essere completamente indipendenti, quindi questa è la novità più importante. Se qualcuno vuole provare a seguire una diretta, il sito è www.contro.tv lunedì, mercoledì e venerdì alle 9 di sera. Adesso io ho appena fatto questa sera la puntata dalle 9 alle 9 e mezza, nella quale rispondevamo alle domande dei nostri ospiti, dei nostri ascoltatori, mercoledì sera alle 9 ci sarà uno speciale, sto cercando di intervistare un dottore, quello della sieroterapia, se ce la faccio per mercoledì sera lo mando in onda e poi tutti i venerdì sera alle 9 facciamo il commento delle news della settimana, questo è il canale. Bene, mi sembrava giusto farti parlare anche della tua televisione, credo che sia il minimo, io ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato questa sera, ma non solo, anche per tutto il lavoro che hai fatto, che hai alle spalle, sei stato anche tu un punto di riferimento anche per noi, per poter andare avanti nel miglior modo possibile, nel sbagliare meno, nel fare questa informazione che potremmo dire sì, informazione alternativa, ma anche contro informazione in un dato momento. Chiamiamola libera informazione, abituiamoci a chiamarla libera informazione che è un termine molto più ampio di contro, libera informazione, perché la parola chiave è quella, libertà. Certo, è vero, è vero. Io ti ringrazio tantissimo, guarda, spero di riaverti ancora ospite. Quando volete. Bene. Basta mezz'ora di preavviso che vado al parrucchiere, mi troppo a posto e ci vediamo. Certo, ora però anche questi parrucchieri speriamo che riaprino, perché altrimenti è un problema. Io non ho grossi problemi, non è che me ne avanzino troppi, però insomma vediamo. Buona serata a tutti, grazie mille. Grazie a Massimo Mazzucco, ricordiamo allora regista Massimo Mazzucco e non complottista, va bene. Va bene, grazie. Grazie a te, buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro, un saluto anche a casa. Stacchiamo dunque il collegamento con Massimo Mazzucco, sono le 22 e 34, questa è Radio Saioz TV, spazio aperto speciale in collaborazione con la testata pianetaoggtv.net, quindi parole che fanno pensare, che diciamo ci rinnovano anche a noi giornalisti indipendenti. È stata, come si può dire, una toccata di energia questa che ci ha dato Massimo Mazzucco. La cosa più bella che mi è piaciuta è il fatto che qualcuno pensava che si dividessero tra di loro, invece sono rimasti uniti. E purtroppo, cari gentili ascoltatori, come vedete, questo capita dappertutto, la storia si ripete, si cerca sempre di dividere, di mettere l'uno contro l'altro, in modo che chi è in alto che comanda, può avere tutta la facilità di fare, di portare avanti i suoi obiettivi, che molto spesso sono nefasti. Chiudo qui, speciale spazio aperto, grazie alla Regia Centrale Rosario Moreno, in studio Massimo Bonella, vi lascio ora con la programmazione a diffusione regionale di tutte le nostre web radio. Buonasera. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.